Il tema delle vie di fuga nei campi flegrei è ancora centrale. Si è tenuto infatti ieri un vertice istituzionale presieduto dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che si è concentrato su quella che a suo dire è una priorità assoluta. Al termine della riunione è stata infatti sottolineata la necessità di rafforzare i servizi di viabilità che finora sono stati implementati soltanto in maniera parziale. Bisogna creare un ambiente in cui anche i cittadini devono fare la propria parte, ha aggiunto, perché se qualcuno viene preso dal panico può accadere il peggio e noi dobbiamo evitarlo. Per questa ragione sono state confermate le prove di evacuazione che si svolgeranno i prossimi 25 e 26 giugno per simulare una situazione di emergenza. L'esercitazione testerà lo scenario 3 del piano speditivo per il bradisismo e prevederà l'attivazione del sistema di protezione civile. Di Bari si è detto infine fiducioso sull'arrivo dei fondi previsti dal decreto nazionale per i campi flegrei. Dobbiamo essere ottimisti, il governo ha manifestato più volte la volontà di raggiungere questo obiettivo e sono certo che lo farà. Un aspetto sul quale si è più volte abbattuto anche il governatore Vincenzo De Luca, che non ha mai perso occasione di sollecitare l'esecutivo per l'ottenimento delle risorse.